Pier Silvio Berlusconi, la decisione, Silvia Toffanina al timone di un reality Pier Silvio Berlusconi continua a portare avanti Mediaset al meglio anche dopo il lutto che ha colpito la famiglia, ed iniziano quindi a moltiplicarsi le indiscrezioni sulle sue decisioni che riguarderanno la prossima stagione televisiva. Sembra che l'ad di Mediaset sia seriamente intenzionato a mandare in onda la talpa nel corso del 2024, soprattutto considerando che il ritorno di questo programma era attesissimo ormai da qualche anno. Potrebbe essere il momento per concretizzare il progetto ma, secondo il settimanale nuovo, resta da decidere ancora il nome del conduttore o della conduttrice. In base a quanto rivelato, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di scegliere Silvia Toffanin che così sbarcherebbe per la prima volta in prima serata. D'accordo con questa idea ci sarebbe anche Maria De Filippi. La conduttrice è coinvolta nella realizzazione della talpa, in quanto è proprio la sua fascino ad occuparsi della produzione del reality. Di conseguenza, anche lei ha voce in capitolo sulla scelta del conduttore e sembra proprio che anche lei stia pensando alla Toffanin. Nel tempo si erano moltiplicate indiscrezioni e si era ipotizzato che potesse essere Simona Ventura a prendere questo posto, ma finora questa possibilità appare lontana. Per Silvia Toffanin, invece, la strada appare decisamente in discesa. La talpa, il ritorno del reality previsto per il 2024. Anche se per il momento è ancora tutto da vedere, ed informazioni certe arriveranno nel momento in cui saranno divulgati i palinsesti ufficiali della prossima stagione televisiva da parte di Mediaset. Sembra che il tanto atteso ritorno della talpa sia previsto per il 2024. L'anno prossimo, forse durante i primi mesi o nel corso della primavera, si assisterà al ritorno del reality, salvo cambiamenti. Come accaduto per le edizioni passate, i concorrenti affronteranno delle sfide molto difficili di vario genere, e tra loro si nasconderà la talpa, che cercherà di sabotare ogni prova per cercare di vincere in maniera esclusiva. Tutti dovranno cercare di capire chi è questa misteriosa talpa e, a quanto pare, Mediaset punta molto anche sul coinvolgimento dei social. Rispetto a quando la talpa andava in onda in passato, ora i telespettatori commentano le trasmissioni in diretta e potrebbero aggiungere molto più pepe al reality. Per esempio i commenti potrebbero essere letti anche ai concorrenti influenzando quindi le loro opinioni e lo svolgimento delle prove. Non resta che attendere per avere ulteriori notizie sulla conduzione e sulla data di partenza. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Silvia Toffanina al timone della talpa, o preferireste un'altra conduttrice? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!